Il turno dell'amministrativa? Sono una elezione amministrativa, i segnali che se ne possono trarre rapidamente sono una situazione di difficoltà del voto ai 5 Stelle che hanno avuto un risultato negativo e anche una ripresa del centro-destra per certi versi, una tenuta delle alleanze di centro-sinistra quando sono a Roma. Dato forse più preoccupante è il calo degli elettori e questo consiglia anche un po' di prudenza di valutare risultati che hanno un valore locale ma molto minore dal punto di vista nazionale perché la dinamica nel voto nazionale è una politica diversa e quella che abbiamo visto in questa settimana.